There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 Ciao a tutti e benvenuti al prossimo video Oggi siamo qui tornati in compagnia di mia madre Ragazzi buonasera Oggi siamo qui per fare la reaction ai musicali di mia madre Potete capire ragazzi che mia madre in poche parole ha un fluido musicali Dove è carica dei musicali veramente assurdi, ma veramente cringe, ma veramente brutti Invidia Per questo video ragazzi mi raccomando voglio 15 mila like per il continuo di questa serie E appunto faccio la reaction ai musicali di mia mamma E niente ragazzi vi auguro una buona visione anche se con questo video gli occhi cominceranno a sanguinarmi Guarda come seguo la canzone, ho imparato pure a dire le parole Ma come sto parlando di... Ma Alice, allora scusa, prima di tutto in questo video si vede più la tenda, il soffitto e la cucina di te Guarda Ma perché non vai manca tempo? No, è il bluetooth che non va da Ma che è il bluetooth, ma quale è il bluetooth? Vabbè, passiamo al prossimo Devo prendere precauzioni, se mi cade la lampada in testa Mentre... Oh, io ho una risposta Raga, ma con che coraggio facessi il mio... No, cos'è? Cos'è questo? No, questo è hot Questo è... È musicali stretching Ah ma... Aspetta Eh? 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 Questa soragine, Maro! No, mamma, non l'hai fatto così Questo è tipo un boomerang, no, non è possibile Ma che boomerang? Alice, non è possibile Ma sono capace di fare Lo vedo È un boomerang Tu non sei capace È un boomerang No, ragazzi Ma, don't give up, non così E perché, ragazzi, non fa così Ma questa fa così, non così No, non fa così, fa così, proprio, tipo, t'accello Vedi? No, no, no E tu fai così Ma che è sta cosa? Ma no, 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 io così Ma non, no, no, perché? Allora, le mie musicali sono parodiosi Non è che non è che non è tra la nostra Ma qual è potenza? Allora, la prossima Sono sdraiata io Mamma, che cosa è questa? Che cosa è questa? Che è? Questo è fighissimo Guarda, guarda, Alex, Alex, Alex Alex! La criniera di Alex No, no, no Questo è il top Adoro questo Guarda, guarda, guarda La pizza Guarda, guarda Guarda il petto finale Botta, donna, pizza In faccia Non ho idea che hai buttato un po' sul movimento No, questo, quello lo fa This is Teddy Teddy, quello là, quel mio figlio di là No, questo cos'è, ma? Questo l'hai fatto a Bari Eh, sul letto quello Perché mi devi rovinare Michele? Perché mi devi rovinare Michele? L'amore mio Andrà in tendenza immediatamente Ci danno un altro premio Sempre sdraiato io Allora, ragazzini Ma non è che si alza A prendere il telefono No, no, no Guarda che io sto in vacanza Almeno No, questo è bello, raga Controbulismo Fanno sul set A favore, fammelo in diretta E tu fai Allora, mi metto quando c'è il cuore Sembra che c'è il problema nelle mani Così Il cuore di mia madre Comunque ragazzi Ora facciamo vedere I tre miei figoli mamma Quelli proprio il top Pronta ma? Sei pronta? Ok Primo Marco mi dispiace Aspetta E' l'altro I wanna see you smile I wanna see you smile No, mamma che mi superata L'ultimo E no per L'importanza L'ultimo Allora Cara persona Che adesso farò vedere Chi sei Veramente mi dite Io ti voglio bere Però mia madre Non lo so perché Ho voluto rovinarti in questo modo Veramente scusa Perché io ti adoro Perché io ti adoro anche io Ecco Sei troppo popolare Non posso permetterlo Lui fa così Anch'io Eccola Lui lo può fare o no? Ma scusa Ma lui fa così E tutto è figo Io faccio così Non va bene Ah Lucia Che hai fatto? Preso la tracchetta Ah ti sei strugiato Cioè hai fatto un cacchio Lucia 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 non scusa No Lucia Tu sto portavoli Oh Dio Lucia Ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel like Raggiungiamo i 15 mila like per questa serie Se si può chiamare così perché è veramente molto trash Seguitemi su tutti quanti i social network Anzi stalkeratemi Trovate link qui sotto tutti quanti nella descrizione Se non siete iscritti 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 è un altro più belli Ah iscrivete anche al canale mi Ah sì vi lascio il link del suo canale Ragazzi vi lascio il link del canale di mia madre Sì perché ho aperto il canale Non è che vi bastava fare il profilo music Vi lascio anche quello lì in descrizione Non è che bastava fare solo quello Quindi se fate anche il canale Se volete andarlo a visitare Link qui sotto alla descrizione E niente ragazzi Ciao per questo video Ciao belli Ciao